Perché i metodi passivi non funzionano contro la ritenzione idrica? Buongiorno ragazze, qua è Cristian Boscia da punto di riferimento italiano per l'eliminazione degli inestetismi e le imperfezioni del fisico femminile. Io e la mia azienda portiamo quotidianamente centinaia di donne a raggiungere i loro obiettivi fisici. Oggi vediamo perché i metodi passivi, come i massaggi e altri trattamenti, non funzionano in modo definitivo contro la ritenzione idrica, contro la cellulite e contro gli inestetismi in generale e perché dovresti preferire quelli che sono i metodi attivi e autonomi del corpo. Disclaimer iniziale, non è mia intenzione attaccare questi metodi anche perché non mi interessa assolutamente. Se ti trovi bene a fare dei massaggi o dei trattamenti, quella volta a settimana ti danno del benessere, ti fanno rilassare, ti danno sollievo, continua assolutamente a farli. Ti metterò conoscenza di come funziona la fisiologia del corpo così saprai scegliere con coscienza cosa preferire. Ok? Partiamo dai metodi passivi, quindi trattamenti, massaggi, eccetera. Per effettuare questi trattamenti ovviamente c'è bisogno di un operatore esterno che va a intervenire proprio manualmente e sì, avrai un minimo di beneficio in ottica di riattivazione della microcircolazione in ottica di attivazione del sistema linfatico e vedrai dei benefici estetici solitamente molto temporanei, di una giornata. Ok? Non di più. Quindi capisci che per avere questi benefici in ottica estetica dovremmo andare a effettuare praticamente un massaggio tutti i giorni che in primis è poco pratico ma non agisce in maniera definitiva alla causa del problema, ok? Perché agiamo in modo passivo esternamente. Tu sei lì bella sdraiata mentre vai a subire tra virgolette il trattamento. Non agisci proprio a monte, ok? Quindi puoi continuare benissimo a fare questi trattamenti ma saprai che non stai agendo sul sistema autonomo del corpo riattivando la normale circolazione e il normale sistema linfatico e se così fosse, se avessimo avuto bisogno da sempre di massaggi, diciamo che il corpo non avrebbe mai funzionato bene nel corso dei millenni, fin dall'antichità, avremmo avuto sempre qualche problematica. Eppure nel passato, essendo che l'uomo era molto più attivo durante la giornata, non riscontrava queste problematiche, i massaggi sì già esistevano ma non con queste finalità. Quindi puoi continuare a fare i tuoi trattamenti, i tuoi massaggi ma capisci che non stai agendo in modo definitivo a monte del problema, perché devi preferire intervenire in modo attivo e in modo attivo cosa intendiamo? In primis per tutto ciò che concerne la circolazione venosa, il ritorno venoso, il sistema linfatico ovviamente viene a mancare quella che è una pompa molto forte come il cuore quando parliamo di circolazione arteriosa, ok? Quindi cosa fa circolare normalmente tutta la circolazione venosa, la microcircolazione eccetera? Sono le pompe muscolari del corpo, le più famose che vi cito sempre sono il diaframma, i polpacci, l'appoggio plantare eccetera eccetera eccetera, ok? Quindi mantenendo attive queste pompe muscolari il corpo nel quotidiano riuscirà a far girare la circolazione in maniera autonoma perché non presenterà queste problematiche, ovviamente per fare questo in primis sarebbe bene non vivere una vita estremamente sedentaria, come seconda cosa intervenire con degli esercizi specifici per riattivare questi aspetti, ok? E non devi andargli a eseguire tutti i giorni, ma inserendo queste routine già nelle tue sessioni di allenamento, magari al mattino o sera, ma banalmente possono essere anche quelle tre o quattro volte a settimana, riuscirai dopo poche settimane a riportare il corpo in uno stato fisiologico così che non avrai bisogno di vivere tutta la tua vita con queste routine. Parentesi, l'attività fisica, l'esercizio fisico, l'attività sportiva è assolutamente consigliabile portarla avanti per tutta la vita in quanto il corpo non è in fisiologia in uno stato sedentario, quindi se tu pensi di passare 12 ore, 14 ore seduta tutto il giorno senza poi allenarti, senza seguire un piano specifico di attività fisica, di attività sportiva normale, è ovvio che poi ripresenterai nuovamente anche queste problematiche in ottica circolatoria, in ottica linfatica, ma non andrai a risolvere come abbiamo visto in maniera definitiva con un trattamento esterno. Quindi è bene inserire delle metodologie attive che se presenti particolari problemi di ritenzione o particolari problemi anche di insufficienza venosa, problemi circolatori, partiamo dal riattivare la normale circolazione e il normale sistema linfatico del corpo, agendo con degli esercizi sulla respirazione diaframmatica, agendo con degli esercizi per quanto riguarda i polpacci, inserendo anche della mobilità per la caviglia, migliorando la postura sull'appoggio plantare, così che il corpo torna in fisiologia per questi aspetti. Poi andiamo a seguire una normale routine di sessioni di allenamento, anche finalizzate a rassodare il corpo e queste vanno a favorire poi anche in modo indiretto quella che è la ritenzione idrica, non facendola comparire. Arrivati a questo punto sicuramente non avrai più bisogno di trattamenti passivi come massaggi o qualcos'altro. Poi, ti ripeto, se li vuoi continuare a inserire perché ti fanno stare bene, ti danno del benessere, ti danno sollievo, ti piacciono, ti rilassano, ti trovi bene a farti massaggiare perché magari il massaggiatore è un bell'uomo, continua ad andarci assolutamente, ma devi essere cosciente che non agirai a monte del problema. Detto questo puoi inserire entrambe le metodologie e sicuramente avrai anche un risultato più efficace. Se vuoi trasformare in modo definito il tuo fisico, eliminando inestetismi e imperfezioni, se sei guardando questo video su Instagram puoi mandarmi un messaggio in privato con scritto info. In alternativa, se sei su YouTube, clicchi sui link che trovi qua giù in descrizione così potrai prenotare la tua prima consulenza iniziale con una del mio specialista. Qualsiasi info ulteriore puoi chiamarci in ufficio tutti i giorni al numero verde gratuito 800 345 999.